bene ci siamo oggi una giornata impegnativa perché stiamo organizzando tutto quello che l'esame di domani 19 gennaio se vedete qui abbiamo creato un gruppo dedicato appunto a quello che è l'academy ci sono una serie di domande e come verrà appunto organizzata tutta quanta la giornata l'indirizzo come arrivare perché la cosa bella del nostro percorso appunto che non non ti lascia mai da solo nel senso potrai sempre avere un punto di riferimento chiedere a noi direttamente quali sono i dubbi o le domande le perplessità che ti affliggono prima magari di venire all'esame oppure come prepararti al meglio all'esame per non arrivare impreparato o come ottenere in maniera più semplice più rapida tutti quelli che sono i risultati che l'academy ti propone all'interno di esso il nostro percorso molto completo perché ci sono tantissimi percorsi molto validi in giro di nostri colleghi ma quello che ci differenzia proprio la possibilità di interfacciarsi direttamente a quelli che siamo noi come artisti e maestri che aiutano ogni singolo ballerino ad ottenere molti più risultati ad ottenere dei risultati molto più concreti e laddove ci siano dubbi domande su anche la creazione dei nuovi corsi la creazione dei dei nuovi studi domande ad esempio ci sono alcune domande che mi hanno fatto ad esempio si se ci se ci saranno lezioni dedicate all'acrobatica bene questo è il nostro bacio d'academy il primo livello è all'interno di questo livello è importante che noi non spieghiamo tecniche di acrobatica perché le cose fondamentali quando uno balla si interfaccia ad esempio a quello che è il mondo del dell'insegnamento che tu sappia fare o no un'acrobazia non è nulla di fondamentale ciò che fondamentale conosce ad esempio come la postura giusta da attenere e come spiegarla al meglio o quali sono come rispondere entro tre secondi ad una domanda se io sono un maestro e un mio allievo mi fa una domanda è indispensabile che quella domanda venga risolta in pochissimo tempo perché se io ci rifletto troppo su una domanda vuol dire che magari in realtà non sono preparato e sto cercando una scusa per girare intorno a quella che è la questione che mi viene posta quindi questo è tutto quello che noi facciamo all'interno del bacio d'academy non è sempre e solamente ballo ma è molto di più perché ti aiuta a non smarrirti lungo il percorso ciao